Il Brainframe è una metodologia maturata 25 anni fa a Bassano del Grappa all'interno di Ipotesi Cinema, che era un laboratorio costruito, pensato da Ermanno Olmi, il regista, insieme a un funzionario della RAI, particolarmente illuminato come non ce ne sono più, che si aveva ipotesi cinema. Olmi non riusciva, e quindi soffriva, a rispondere a tutte le richieste che gli facevano di voler andare sul set dei suoi film, di voler avere un colloquio con lui, un incontro con lui, per cui ha pensato, insieme a questo funzionario, di fare questa ipotesi cinema, che era quella che lui chiamava un'osteria dove si dialogava, e non necessariamente di cinema. E quindi poi le esperienze avvenivano, come dire, in modo laboratoriale. In effetti noi siamo usciti da lì che sapevamo fare un po' tutto quello che riguarda la professione, per cui si riusciva a curare il discorso dell'audio, piuttosto che quello del montaggio, eccetera. Ma la cosa interessante è che a un certo punto lui ha azzerato la velleità di ciascuno più o meno egoica di voler fare l'autore cinematografico. Quindi ha detto, ok, stanno uscendo le videocamerine, erano fine anni Ottanta, ognuno, cioè via le vostre sceneggiature, voler via le vostre idee, prendete le telecamere che noi mettiamo a disposizione, andate fuori, nella realtà, e ascoltate. La cosa lì è stata dura, è stato un colpo tremendo per chi appunto voleva, aveva, era pieno di idee, no? E quindi aveva soggetti, sceneggiature. Lì, quello che noi chiamiamo amabilmente il vecchio, ha azzerato tutto. E questo è stato per molti, distruttivo, nel senso che se ne sono andati dal laboratorio, dalla scuola. Per altri, pazzoidi come me, Rodolfo e altri, invece è stato un motivo di sfida. E adesso mi ritrovo molto contento di avere così seguito quell'indirizzo. Aveva chiamata metodologia della postazione per la memoria, cioè qualcosa che tu trattieni nella tua memoria, che non è semplicemente un archivio, ma che elabori per il futuro. Cioè quelle cose lì che ti servono quando tu vorrai raccontare in un film, in una sceneggiatura, in un romanzo, in un racconto, in quello che vuoi nell'ambito delle arti, che tu sei riuscito a trattenere e elaborare ascoltando. Per cui questo discorso, per esempio, che qualcuno dice che ascoltare è molto più facile, anche solo da un punto di vista così emotivo, di timidezza, che raccontare, però di un'importanza straordinaria per noi. Cioè si fa molta fatica ad ascoltare e non è assolutamente un atteggiamento passivo. Si è più attivi ascoltando, perché devi mettere in atto tutta una serie di strategie, come dire, tue cognitive, emozionali, di sensibilità, che nel momento in cui butti fuori, non sono così raffinate e, come dire, precise. E tra l'altro, nella mia ignoranza dei classici, però mi viene in mente una frase di Plutarco che dice il discorso di chi non sa ascoltare, oscuro si risperde sotto le nubi. Ed è esattamente così. Cioè se sai ascoltare, prima o poi vedrai che saprai anche raccontare.